Ciao a tutti, benvenuti su Gossip News Ita, il vostro canale preferito per rimanere aggiornati sulle ultime chicche e scoop del mondo delle celebrità. Oggi abbiamo una notizia succulenta direttamente dal campo di calcio e non solo. Preparatevi a scoprire cosa ha combinato il calciatore Mattia Zaccagni durante il derby contro la Roma, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Non stiamo parlando solo di una vittoria in campo, ma anche di una vittoria nella vita personale di Zaccagni e della sua influencer moglie, Chiara Nasti. Dopo essere diventati genitori di Ciagio lo scorso novembre, la coppia ha appena annunciato che presto arriverà un altro piccolo nella loro famiglia. E come ha reso pubblica questa lieta novità? Con un gesto spettacolare e divertente sul campo, simulando un pancione e persino mettendo il pollice in bocca per rappresentare un ciuccio. Chiara Nasti ha condiviso la gioiosa notizia sui suoi social media, pubblicando la foto del marito in campo con la scritta, ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l'ora. Che modo fantastico di annunciare una nuova gravidanza, vero? Se anche voi amate rimanere aggiornati sulle ultime news e curiosità delle star, non dimenticate di iscrivervi a Gossip e Newsita, di lasciare un bel like se la notizia vi ha emozionato e di condividere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Grazie a tutti voi che ci seguite e che rendete possibile questo canale. Ci vediamo al prossimo video su Gossip e Newsita. Non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like e commentare. A presto.